Qua siamo al bus terminal degli elefanti, vediamo Marilu che si esibisce un dialogo con tutto l'elefante, dai vai a parlargli, vai a parlargli. Eccolo qua, eccoli qua, guarda come ti danno la proposcita, forte, guarda come un denzo, sembra di essere al circo europeo. E quelli sopra, tranquilli, tranquilli, guarda che beati che sono quelli sopra. E' proprio come fanno la piega, quelli che dico non devono essere pericolosi. No, quelli sono masueti. Ma quella che non la conosce, dopo la facciamo stare. Sì, sì, dopo, quando ti danno una volta sola la mano, quelli in fondo là, fai quelli in fondo là, vedrai che te la dà. La prima volta te la dà, dopo non te la dà più, eccolo qua, eccolo qua, così basta. Ci tirava? Voleva prenderti Marilu, ti prendeva e ti portava su. Eh, potevi andare su. Allora, come è stata, come ti ha preso? Mi hanno sferrato la mano. Ma tutta... No, tre dita. Tre dita? Pazzesco. Perché l'avevo stata tirata via, però se no mi si tollevava. Cavolo, che cosa è stata?